Musica Nel nuovo millennio, siamo nel 2018, diventano queste studentesse, liceo classico di Macerata, diventano, o sono diventate anzi meglio, adulte. Perché hanno finito gli anni quanti giorni fa? Io il 5 gennaio e io il 7 E abbiamo accompagnati anche dalla professoressa Francesca Pagnanelli, che insegna in varie classi e proprio a lei, prima vorrei far parlare, come trova i ragazzi questo terzo millennio? Perché è una cosa molto particolare, sono i primi loro che sono diventati adulti Quali sogni, quali sensazioni, Francesca, tu hai nei confronti degli studenti e studentesse che sono entrate in questo millennio? L'impressione è più che positiva. Sono studenti molto vivaci, molto curiosi, molto anche liberi e coraggiosi Noi abbiamo tanta paura per loro, ma loro tutta questa paura non ce l'hanno per fortuna Noi tendiamo a dire loro attenti alle scelte che farete nel futuro, attenti perché il mondo è pericoloso ma loro invece sono ancora pieni di vita, di speranza e sono commoventi perché dimostrano che c'è un germe di bene grandissimo in loro e che noi adulti siamo disabituati a vederlo e a coltivarlo Per me è sempre un'esperienza commovente e estremamente stimolante quella di confrontarmi con loro e di scoprire quanto bene c'è e quanto noi adulti ci crediamo poco A 18 anni però è facile essere ottimisti È vero, a 18 anni è facile essere ottimisti ma è anche un loro diritto essere ottimisti e la speranza che hanno va sì indirizzata ma non va repressa Sicuramente sì, ecco, ma sentiamo poi i protagonisti di questo inizio di millennio Intanto dici i nomi così i nostri telespettatori sanno chi siete Io sono Irene Irene, come ti senti ormai da adulta? Sei nata il 5 gennaio, no? Sì Sei nata almeno giuridicamente nell'età adulta e quali sono i tuoi sogni che hai nel cuore? Allora, a me piacerebbe fare medicina e quindi l'anno prossimo proverò il test anche se mi spaventa molto perché è molto selettivo e poi per ora il sogno che ho adesso è questo e anche la preoccupazione più imminente perché la scelta universitaria è vicina Bene Irene, quindi per te il lavoro diventa una passione la scelta della professione che tu farrai e questo è un incentivo per te per applicarti ancora di più è una specie, chiamiamola, di vocazione non è solo una professione per motivi economici Sì, assolutamente, non è assolutamente quello il pensiero è più il fascino che ho nei confronti di questo mestiere Ti piacerà oltre che lavorare, non so, altri hobby, viaggiare, avere una famiglia ci sono dei sogni, diciamo, intorno a questa scelta della tua professione Sì, assolutamente già ho in mente di fare almeno un anno di università all'estero perché mi piace viaggiare e poi mi piace conoscere le lingue, le nuove culture quindi non so se un domani vivrò all'estero però è sicuramente un'esperienza che voglio fare e anche dopo l'università ha avviato il lavoro assolutamente anche una famiglia, non lo so è ancora presto, però sì Intanto è un sogno che hai messo nel cassetto? Sì, assolutamente sicuramente anche l'esempio dei miei genitori è sicuramente qualcosa che ho in mente assolutamente, sì Anita, tu hai terminato 18 anni, pochissimi giorni fa anzi, meglio, quattro giorni fa, il 7 gennaio e quindi ti sei immessa in una nuova fase in una nuova epoca di vita con quali trepidazioni tu sei entrata nel diciottesimo anno di età? Per adesso non ci sono grandi cambiamenti o cose nuove sicuramente la patente adesso inizio a studiare per fare l'esame questo sarà un grande cambiamento anche per gli spostamenti e in più a 18 anni comunque inizia a farti un'idea di quello che vorrei fare del tuo futuro quindi anche la scelta all'università e in generale come hai intenzione di essere anche come persona nella vita adulta ma quindi proietti un po' la tua vita verso il futuro e tu ci vedi qualche preoccupazione particolare non so, la scelta lavorativa anche tu abiti immagino i social sai, non so, su Facebook e altre cose ma lo ritieni un arricchimento ti aiuta a averci in relazione con gli altri oppure è un'evasione della realtà? Da una parte magari è utile perché per le informazioni per essere comunque sempre più appunto informata su quello che accade nel mondo solo che da un altro punto di vista potrebbe limitare i rapporti umani oppure il tempo libero quindi a due aspetti sia negativo che positivo La professoressa Francesca che essa stessa credo abbia fatto il liceo classico da studentessa in questo nuovo che io chiamo continente dei social non sono solo strumenti ma è un ambiente da vivere, da abitare come ti trovi tu da un punto di vista diciamo didattico di fronte a una generazione che è figlia dei social di questo mondo nuovo? La domanda è molto interessante ci confrontiamo spesso con colleghi e con amici su questo punto sia perché come educatori ma pure come genitori perché l'ambiente dei social è interessante è pericoloso e quello che accade nei social è poco controllabile e non è sempre positiva la permanenza dei ragazzi nei social i fatti di cronaca recenti ci inquietano d'altro canto però possono forse essere usati anche come strumento semplice di contatto e di comunicazione però ecco Don Luigi la domanda è veramente complessa noi spesso ci confrontiamo ripeto con gli amici con i sacerdoti perché forse abbiamo bisogno proprio di parlarne e di confrontarci e trovare qualche punto fermo perché veramente stiamo navigando a vista esattamente ecco possiamo noi adulti diciamo considerarci immigrati in questo nuovo mondo o forse apprendisti quindi abbiamo tutto da imparare però c'è la politica anche la politica che nei decenni passanti appassionava gli studenti oggi secondo le ultime inchieste pubblicate dai giornali si parla che un 70% di giovani non andrebbero a votare le prossime elezioni siete d'accordo su questo? La politica la sentite molto lontano dalla vostra vita? In realtà con piano di 18 anni è una domanda che mi sono fatta perché era una cosa a cui non avevo mai pensato troppo e il fatto che invece devo votare devo essere un attimo protagonista l'altra sera parlando con mamma mi ha fatto tipo tutta una lezione di politica dagli anni 90 adesso perché perché comunque è facile dire va tutto male è inutile il mio voto però finché uno fino a quando uno non si mette in gioco e poi comunque è il paese in cui abitiamo quindi la propria opinione va sempre detta in ogni caso e astenersi al voto secondo me non è un atto di protesta assolutamente ma è più non voler guardare la realtà quindi stiamo parlando con queste due studentesse di liceo classico di macerata per chi si avesse messo in ascolto in questo momento non mi pare che sia una generazione sragliata perché è stata definita generazione sragliata cioè da divano cioè dove un po' rassegnata è così secondo te Anita? forse un po' più di rassegnazione c'è area anche per i risultati comunque nel nostro paese per la politica però come ha detto Irene comunque è importante soprattutto anche perché si è lottati cioè si è lottato per questa cosa mettersi in gioco appunto e fare parte della della politica dell'attualità soprattutto nel nostro paese credo che per esempio io e i miei conoscenti ci interessiamo abbastanza della politica e di quello che ci circonda quindi sdraiata non proprio ma ti interessa più il volontariato o la politica? il volontariato innanzitutto ti interessa in qualche maniera e se ti interessa che cosa ti appassiona di più la politica o il volontariato? forse il volontariato è un aiuto un po' più concreto magari anche a chi è più sfortunato quindi forse potrebbe interessare di più i ragazzi della nostra età però anche la politica comunque cioè per esempio adesso ci saranno le elezioni sono viste con un po' di di importanza comunque da parte nostra quindi non saprei torniamo dalla professoressa Pagnanelli che poi la stessa domanda la rivolgerò alle nostre due amiche Irene e Anita tu Francesca sei stata qui anche da giovanissima da studentessa di liceo classico oggi sei anche madre allora ti vorrei fare questa domanda è più facile essere genitori che figli o viceversa più facile essere figli che genitori allora io purtroppo o per fortuna non lo so ma do una risposta che è questa io ho avuto la fortuna di aver ricevuto un'educazione cattolica chissà se si può dire Don Luigi io penso che sì perché perché censurare la propria identità e allora mi è stato insegnato mi hanno insegnato che noi dobbiamo vivere possiamo possiamo vivere la nostra vita in maniera piena in tutte le sue fasi quindi io ho avuto la fortuna il privilegio di essere una studentessa tranquilla di avere i normali screzzi con i miei compagni di classe con i miei professori ma di viverli e di risolverli e così quello che vivo come insegnante non posso certo dire che è tutto semplice a volte siamo molto stanchi e la vita ci presenta battaglie continue sia da quando ero ragazza sia adesso che ho un figlio e che insegno però io diciamo così ho avuto la fortuna di non essermi sentita mai sola Irene che ripeto ha finito 18 anni il 5 gennaio scorso immagini il tuo ruolo di madre pensi che sarà più facile essere figlia in questo momento o un futuro diciamo madre genitrice io penso che sarà difficile essere madre perché è un periodo un sacco difficile e i genitori io magari non nella mia famiglia però mi rendo conto che tante volte i genitori non sanno veramente che fare perché magari dicono troppo troppi sì e allora magari mandano i figli allo sfascio dicono troppi no e allora i figli sono troppo chiusi in casa e magari sfogano questo in altre situazioni quindi io penso che il ruolo dei genitori soprattutto in questo secolo sia molto complicato e Anita meglio essere figlia o meglio essere genitore? penso essere figlia cos'è più facile? essere figlia come mai? come ha detto Irene comunque da madre hai più responsabilità e pensi di più quasi a tuo figlio che magari a te stessa quindi hai hai anche paura di sbagliare invece da figlia pensi sempre un po' di più a te stessa che a tua madre magari cioè anche per il futuro hai meno preoccupazioni hai comunque la madre è sempre un punto di riferimento su cui contare invece se da madre hai un brutto rapporto con la figlia penso che sia un grande dolore ma non è non so quindi quindi in pratica da figlia c'è meno responsabilità da madre responsabilità saranno diversificate comunque in aumento sì ecco quindi tu pensi che la famiglia di cui oggi si discute molto a vari livelli possa essere secondo le statistiche ancora rimane un sogno dei giovani anche nonostante le difficoltà che oggi l'istituto familiare presenta per vari motivi no tu nei tuoi sogni futuri c'è anche questa istituzione chiamiamola sì assolutamente quindi pensi che ci si possa sempre più tardi oggi quindi va un po' rimandata in avanti anche perché si richiede più maturità sì ma magari anche perché ultimamente più persone vanno all'università quindi con gli studi il progetto di una famiglia va sempre più ritardato quindi non perché non è una priorità però prima di fare una famiglia comunque dovresti avere anche una sicurezza economica quindi un lavoro questa sicurezza economica oggi professoressa c'è oppure è tutto precario allora c'è molto di precario molto di precario qualche illusione c'è però sono convinta che questi ho la speranza e lavoro e lavoro perché questi ragazzi riescano a vivere in maniera positiva le esperienze che dovranno affrontare e affrontare le sfide che dovranno affrontare che non sono piccole cioè loro sicuramente hanno un mondo molto complesso davanti però hanno anche gli strumenti devono possono avere gli strumenti per affrontarlo quindi c'è molto il lavoro precario è vero ma noi sappiamo che la storia ha avuto bei periodi di precariato ben più gravi di questo e che ci sono dei avvicendamenti nel tempo che la gente però deve può continuare a lavorare e a impegnarsi perché se non lo fa è peggio ecco quindi la prospettiva che avete avanti è positiva Irene positiva in generale ecco dalla politica all'Europa al vostro lavoro il vostro futuro affettivo anche tu la vedi in maniera positiva sì sì è positiva sicuramente come diceva la professoressa i momenti di crisi i periodi negativi ci sono però non per questo uno non deve guardare positivamente al futuro anche tu concordi in questa visione rosea diciamo sì sì abbastanza ma il terrorismo per esempio che purtroppo è un fenomeno che ha varie espressioni in Europa ti preoccupa ad esempio questo tema ancora non l'abbiamo toccato ancora qui però il terrorismo è un elemento che ha toccato la Francia la Germania per fortuna ancora non l'Italia ha toccato la Spagna l'Inghilterra e altri paesi poi del sud del mondo ma questo è una un'incognita che pesa anche sul futuro di voi giovani sicuramente mette un po' di paura però un problema molto concreto nelle nostre vite non credo che sia quindi sì metti un po' di paura ma non non così tanta abbiamo ascoltato tutte queste problematiche i sogni dei giovani le loro prospettive anche le loro paure ma forse abbiamo parlato poco o per niente della scuola è una delle scienze educative molto importante oggi e questa alleanza come ricordate anche pochi giorni fa il papa ricevendo degli insegnanti il quale ha detto che forse si è interrotta e saltata la collaborazione tra famiglia e scuola tra queste scienze educative la scuola in questa problematica che in questi giovani che vivono velocemente da una generazione all'altra prima erano 25 anni poi 5 poi credo che adesso un anno poco più già c'è una differenza fortissima ma professoressa c'è un adeguamento tra virgolette della scuola riesce scusate il termine a inseguire il cammino dei giovani beh la scuola diciamo istituzionalmente tende a essere il luogo del già e del non ancora quindi alcune cose alcuni saperi alcune competenze diciamo così tradizionali vanno assolutamente riproposte e da questo punto di vista la scuola deve anche essere convinta di quello assertrice di alcuni valori e convinta nel riproporre la tradizione e nel dar soprattutto questo io insegno in un liceo classico per noi la tradizione non è un peso è un valore è quasi è proprio il dono che gli antichi hanno fatto a noi e noi ci teniamo molto a dare il senso di questo filo che come appunto il Papa diceva il filo si è interrotto noi cerchiamo di riannodare tutti i giorni questo filo perché gli studenti capiscono che c'è un mondo alle loro spalle che è vero che sono nati che fanno 18 anni nel 2018 ma il mondo c'è da prima di loro e ci sono da prima di loro tante cose tante conoscenze bellissime delle quali non debbono privarsi ma all'altra parte la scuola è anche il luogo del confronto con quello che non è ancora e quindi noi costantemente dobbiamo essere pronti ad ascoltare le domande degli studenti e ad aggiornare quello che proponiamo loro perché una ripetizione perissequa di contenuti o anche di metodi e di strumenti è ugualmente erronea come lo sarebbe un buttare al mare tutta la tradizione e tutti quelli che sono i nostri saperi tradizionali e la nostra storia e la nostra letteratura per inseguire qualche I come che ne so come il fascino dell'informatica o altre cose che sono strumenti importantissimi che noi non possiamo non dobbiamo trascurare ma in questo difficile complesso combattuto equilibrio fra il passato e il futuro che abbiamo con noi Anita tu conoscerai sicuramente Umberto Eco lo scrittore se io ricordo bene nel romanzo Il nome della rosa non so se l'hai letto o voli giovani non l'hai letto però ne hai sentito parlare sicuramente a un certo momento porta questo esempio Umberto Eco noi siamo come delle pulci quindi piccolissimo sulla croppa di un elefante l'elefante sarebbe la storia noi siamo un piccolo puntino della storia però guardiamo ancora siamo nella linea dello sviluppo della storia perché nonostante la sua piccolezza la pulce è più alta dell'elefante tu ti senti figlia di questa storia oppure come io qualche volta almeno quando insegnavo mi trovavo con una sorpresa che molti giovani non avevano nel senso della storia e confondevano delle date dei personaggi più diversi sicuramente sì soprattutto questa scuola a noi studenti ci aiuta proprio ad avere una visione abbastanza aperta e lineare della storia e non solo mari dei fatti storici oppure delle date ma anche la letteratura le teorie le teorie filosofiche di ogni epoca e quindi a studiarla per bene e a capire quello che possiamo portarci dietro e quindi gli insegnamenti della storia quello che è successo quello che ci è stato sbagliato di giusto e magari riprenderlo capirlo e magari riusarlo oppure cambiare delle cose affinché comunque il futuro sia migliore guardando comunque al passato e quindi è un grandissimo insegnamento secondo me la storia e è importante che tutti sappiamo cosa c'è stato prima di noi per poter fare di meglio nel nostro futuro La professoressa ha vissuto la studentessa qualche decennio fa quando era l'epoca del fascino delle grandi sogne delle grandi utopie delle grandi narrazioni da cui si ispirava anche il modo di vestire l'eschimo era una divisa e la gravata era un'altra divisa era un'altra appartenenza oggi questi giovani hanno sogni di piccolo capotaggio che tu sei abbastanza ottimista su di loro ma i loro sogni sono di piccolo capotaggio o e sono distanti delle grandi utopie del passato sono certamente molto distanti alle grandi utopie del passato molto distanti e potrebbero essere letti i loro sogni come di piccolo capotaggio però io preferisco interpretarli invece come piccoli costruttori cioè io ho l'impressione che questi giovani hanno rinunciato hanno rinunciato per la loro per la storia appunto perché così sono arrivati a vivere in un momento che non li porta a fare dei sogni giganteschi ma hanno voglia di costruire nella loro vita qualcosa di ben fatto cioè i studenti che qui dicono che vogliono fare che ne so l'università io per quello che posso dire io mi occupo dire in uscita per questi studenti la maggior parte di loro lo fa perché ha un sogno di vita bello cioè una costruzione interessante e importante di vita ecco in ultimo concordi tu Anita su qualcuno che dice che la malattia più grande di quest'epoca di questo secolo è la solitudine un'epoca in cui in tempo reale posso collegarmi con l'Australia con Nord America però l'uomo la persona oggi è più sola che mai cioè una solitudine in vicinanza sia vicini ma sia soli concordo perché come abbiamo detto prima i social network appunto possono limitare i rapporti umani e quindi Mari potresti stare in contatto 24 ore su 24 con un tuo amico che Mari vive un po' più lontano da te però poi effettivamente durante il giorno sei da solo davanti a un telefonino o un computer è molto diverso da un rapporto concreto che hai con una persona con cui esci tutti i giorni condividi le cose quindi credo che ci sia più solitudine rispetto a prima limitato ovviamente a causa di queste nuove tecnologie ringraziamo la professoressa Pagnanelli grazie a voi grazie a voi ringraziamo anche Irene è nata ricordiamo ancora il 5 gennaio scorso quindi è proprio ancora fresca fresca dei 18 anni e avevamo detto all'inizio della trasmissione questi sono i diciottenni che sono non solo di questo secolo ma del terzo millennio ecco i primi ti ringraziamo Irene tu vuoi grazie a voi e Anita grazie siamo stati ospiti del liceo classico di Macerata anzi aggiungerei classico e linguistico ecco io sono rimasto alla vecchia edizione perché io personalmente ho fatto il classico ho insegnato in questa scuola per 11 anni che si chiamava solo classico però ci hanno aggiunto anche il linguistico con grande spazio credo al cinese grazie comunque per l'ospedialità grazie a tutti Grazie a tutti.